Mentre la Puglia entra in zona gialla, il bollettino epidemiologico è da zona rossa con quasi 2.000 nuovi casi e un rapporto tamponi positivi che si alza rispetto al giorno precedente. Purtroppo si registrano anche 28 decessi. Nel pomeriggio di sabato i dati comunicati dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, parlano di 10.119 test e di 1.884 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia Bat, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di residenza non nota. Il rapporto tamponi positivi sale al 18.6%. Sono stati registrati 28 decessi, 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, un residente fuori regione.